Vico Ricci, dopo l'esperienza a Venezia, è imminente il tuo passaggio alla Beretti della Vitervese, vicino a casa, sei contento? Sì, sì, sono molto contento, soprattutto per l'ambiente, perché è un ambiente più vicino a casa, ma più combattivo, che rispecchia un po' le mie caratteristiche. Come è stata l'esperienza di Venezia? L'esperienza di Venezia è stata molto positiva, perché mi hanno trattato bene, sono stato veramente bene, è una società professionista in tutti i sensi. Beretti ti avvicini alla prima squadra, hai anche possibilità di allenarti e magari anche di debuttare? Sì, questo è proprio il mio obiettivo, di provare a giocare in prima squadra, di allenarmi all'inizio, poi dipende da me. Tra pochi giorni inizierai questa avventura, come ti senti? In forma, mi sto allenando, ringrazio anche il mister che mi sta aiutando, Fabrizio Carbone, ringrazio Giorgio che mi sta dando la possibilità di allenarmi in questa struttura, mi sento bene, sono contento, non vedo l'ora di iniziare.